C'è ancora chi fa pressione perché la nuova linea dell'alta velocità venga realizzata sul tracciato già esistente in Cilento e che di conseguenza abbandoni l'attuale progetto già peraltro in stato avanzato, che prevede il passaggio nel Vallo di Diano per collegare Battipaglia a Praia, quale lotto funzionale alla velocizzazione del percorso ferroviario fino a Reggio Calabria. Una nuova associazione scende in campo per dettare la sua linea e provare nell'ambito delle attività del dibattito pubblico che dovrebbero partire a breve a portare la loro idea e cambiare così il progetto. L'associazione di consumatori codici che nel gruppo di Uniti per l'alta velocità del Vallo di Diano, Angelo Aromando, ha scritto ovviamente questa associazione non rappresenta il Vallo di Diano, ha scritto una lettera ai referenti istituzionali del Cilento per rendere note le intenzioni del gruppo, che si sarebbe costituito come gruppo di lavoro per portare avanti l'idea di modifica del tracciato. Per codici, il progetto illustrato dalla D. Vera Fiorani sarebbe in realtà solo una chimera e resterà una cattedrale nel deserto che non sarà mai realizzata. Queste ipotesi, secondo quanto farebbero emergere dal gruppo, sarebbe sufficiente per impugnare il progetto davanti alle sedi competenti europee. Infatti, a loro parere, la realizzazione dei lotti previsti sul tratto Battipaglia-Praia, così come da progetto presentato dalla commissaria D. Fiorani, non saranno mai realizzati se non nel sublotto A del primo lotto, ossia il tratto Battipaglia-Romagnano, per il collegamento con Potenza. I successivi sublotti B e C, quindi, a loro parere, non saranno realizzati. Un progetto, che sempre a parere di codici, andrebbe contro anche le direttive europee, che nel lontano 1996, esattamente il 23 luglio del 1996, avrebbe manifestato perplessità sull'ipotesi di realizzare nuovi tracciati, mentre chiedeva il potenziamento delle tratte esistenti. L'Associazione Codici, quindi, si fa forza per la sua battaglia di un atto emesso oltre 25 anni fa e, peraltro, ben prima di quelle che sono state le esigenze di velocizzazione dei trasporti e dei collegamenti, soprattutto per l'alta capacità. Insomma, per codici non ci sono alternative al miglioramento della tratta esistente che attraversa il Cilento. Dimenticandosi, poi, del Vallo di Diano, l'Associazione si preoccupa dei comuni interni della Basilicata, ipotizzando per loro eventuali collegamenti con la Salerno-Potenza-Taranto, dove il Frecciarossa già passa. Come del resto, l'alta velocità raggiunge già il Cilento. Intanto, dal Vallo di Diano, sindaci e territorio si accingono alla Costituzione del Comitato a Difesa dell'Alta Velocità Battipaglia-Praia, passando per il Vallo di Diano. Domani sera è in programma la conferenza dei sindaci, con all'ordine del giorno anche l'istituzione del Comitato.